Sarebbe stata ritrovata carbonizzata la Renault Kangoo utilizzata dal commando composto da quattro persone che la sera del 23 maggio scorso nella parte alta di via Torino sparò al favarese Carmelo Nicotra. Il furgoncino è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in contrada bisaccia in una strada chiusa. Si presenta completamente distrutto dalle fiamme. Ancora da capire se il mezzo sia stato incendiato qualche ora prima oppure se si presenta così già da qualche giorno. L'unica quasi certezza per gli inquirenti è che si tratterebbe dello stesso mezzo utilizzato dai sicari per sparare al 35enne Carmelo Nicotra. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il commando di quattro persone sarebbe giunto in via Torino a bordo della Renault Kangoo. Giunti sul posto tre soggetti sarebbero scessi dal mezzo facendo esplodere diversi colpi di arma da fuoco tra pistola e mitra. Davanti a loro in quel momento il favarese Nicotra. La sparatoria si sarebbe consumata in strada e anche all'interno del magazzino dell'uomo. Il 35enne nonostante i numerosi colpi esplosi riuscì a salvarsi. Portato in ospedale è stato più volte operato per delle complicazioni all'anca. La sera del 23 maggio scorso diverse tracce di sangue e diversi bossoli vennero ritrovati in strada. In questo ultimo periodo Favara è stata sotto assedio da parte delle forze dell'ordine. Numerosi agenti e militari hanno setacciato ogni angolo della città. Diversi controlli in abitazioni sono stati eseguiti. Adesso il ritrovamento del mezzo utilizzato in questo ultimo agguato. Gli inquirenti stanno lavorando notte e giorno per consegnare alla giustizia chi ha commesso crimini e riportare la giusta serenità in città.